E come ogni domenica siamo a leggere i vostri messaggi, i primi tre sono relativi a un problema su Facebook, infatti Mary dice Leonardo su Facebook, ma dove sei sparito? Sandra dice ritorno su Facebook, Leo ero preoccupata, stavo andando, a chi l'ha visto? Un bacione, un abbraccione, Andrea invece dice, ah sei tornato, e infine sono quattro, infine Antonio ma come mai non riesco a inviarti nulla? Allora chiarisco che per un'esuberanza di persone che mi hanno consigliato ad aprire una pagina a personaggio pubblico, purtroppo è andata a finire che io con questa pagina a personaggio pubblico non posso comunicare con voi, quindi coloro che mi stanno ascoltando, che quindi sono i fedelissimi di Chiaretondo TV, mi devono richiedere amicizia come Leonardo Franceschi, normale e non personaggio pubblico, allora in quel modo possiamo interscambiarci messaggi, bacheche, mail e tutto, spargete la voce tra l'altro e mi fate una cortesia, a tal riguardo io sulla pagina del personaggio pubblico ho fatto anche un trafiletto, ecco se lo condividete va nella vostra pagina e spiego la cazzata che sono stato indotto a commettere. Passiamo ai commenti e ai servizi della settimana, Mario su Arezzo che riapre dopo le ferie, il cagnolino che te lecca come un gelato esilarante, Leo bentornato dalla vacanze, meglio benvenuto di quel cagnolino Ina, non potevi sperare, ciao a tutto lo staff e a presto, grazie Mario, questo è Mario il tutto fare, si può dire che così lo pubblicizziamo anche, Giulia Arezzo riapre e chi se ne frega, che gusto guardarvi dal mare, par di coglioni, no quello ce l'ho aggiunto io, sgalletto tanto e ti sento, ma dopo domani rientro, mannaggia c'è te quando io leggo sei già a casa, che torsola, PS dove ve la mando una cartolina, ora te lo dicevo, sei già tornata quindi vieni a salutarci, Italo che carino ganzo, Franceschi di la verità, il canino del servizio su Arezzo che rientra dalle ferie è il tuo, no non è il mio, era di quella signora lì, però era molto affettuoso, Andrea il lavandaio, il canino, il canino più di me, il canino non il dente, sappiamo tutti che tu caro Leo hai un fascino irresistibile, ma ora anche i cani, c'è da ogni cosa ma i cani, e poi era un vasto, le miss, botolo incazzato, miss, ma me dici come cazzo fè a trovalle, che miss che si è trovato, le miss, ma mi dici come cazzo fè a trovare, tutto attaccato, Antonio la mamma miss Arezzo e il babbo Missino, era la mia battuta, un dicevano che i missini facevano i bei bambini, quindi vorresti dire che sono brutto io, ma anche da dietro rompi i coglioni, ora ci manca che tu ti metti a inchiodare, Jean Maria il servizio sulle miss, stupendo, Carla, libri e miss, cioè tutti e due i servizi allora, uno era sui libri, ha ragione l'ingresi a chiamarla school e i libri book, loro dicono miss, che vorrebbe dire mancare, ma ogni manca niente, tranne l'olio buono per fare il pinsimonio col missilo de sedeno, donna, ragazza di cerebrale guarda, sei proprio, sei alcolizzata, per me è alcolizzata, l'ex combattente, ah meravigliosa, Dino da Firenze dice, al di là della simpaticissima satira da voi prepara perpetrata, non è facile per un ex combattente accettare il fatto che dopo tanti stenti si debba constatare che a sacrificarsi debbano essere sempre i soliti, lo so, un ardito, urca miseria, l'intervista al combattente, onore anche ai combattenti salò, ah, cioè uno che si firma, ah, il combattente te Leo vuoi fare il furlo, ma lui ta' Alfano Nero, questo non l'ho capito, Antonio il combattente io ci ho provato a scrivere a Tremonti, risponderà ho dei dubbi caro Leo, cioè su chi paga le tasse suppongo, eh, Rossella Angiolini, cioè su Rossella Angiolini, Nadia dice bentornata Rossella e digli al Franceschi che la faccia finita riprende anti il giro, chi disprezza compra, a me piacerebbe comprare ogni cosa, non arriva, cioè io comprei di tutto, piacerebbe chi l'Angiolini? Prima di tutto sono amico di suo marito, prima di tutto e non mi permettere mai di imbullettarla e poi non me la dà, il Nibbi, Calla scrive, la marcia del Nibbi, sicché passarono per la Fradicia su Napoli, ma il Nibbi un ceppolessere nel gruppo, impelagato in quella pista scicalabile che va al Turrino, ancora non è riuscito a tornare indietro, questa è quella dei primi, è la cerebrale dei primi. Pasquino invece, Pasquino Aneddoti scrive, la foto è non page del servizio del Nibbi, quello di sinistra mica sarà di destra, che è il Nibbi, non credo proprio, cioè il Nibbi è uno sfigato, perché è un comunista che i comunisti non gli vogliono bene perché dice la verità e la maggior parte dei comunisti è bugiarda, quelli dei partiti e io parlo non dei comunisti di cuore, dei partiti, i fascisti lo vogliono perché è un comunista, quindi ne ho sfigato. Lo sciopero dei calciatori, uno sportivo aretino sull'intervista a Brandini dice Stefano Brandini for Presidents, ma no dell'Arezzo, della Repubblica, botolo incazzato, quello di prima, sciopero dei calciatori, è la prima volta che ne scrive tutto attaccato, bignerebbe mettili un pallone in culo, ma di quei vecchi con le cuciture di cuoio che gli raspeno su, che gli raspeno su per il canale e io lo capisco il dolore perché probabilmente questo botolo è alla nostra età perché quei palloni di cuoio che ogni volta ne davi le testa e ti sbucciavi, mi immagino sull'orifizio anale. Bene, abbiamo finito anche questa raffinata interpretazione della domenica, dei vostri messaggi, una buona domenica a tutti, ovviamente io appena andremo a Nero, non come pensate con Luca, Rita, Rita, Rita vien qua, vien qua, oddio Luca no, no Luca no, tieni là quel martedì, ma che, te l'hai, te un bullet o una palla.